Il presidente dell'Associazione Sferisterio e sindaco di Macerata Carancini riconferma i quattro nomi del CDA scelti dal Comune come primo passo per affrontare la nuova stagione lirica e i suoi problemi. Si tratta del presidente Nicola Del Monte, l'ex funzionario della Regione Raffaele Berardinelli, l'avvocato Fiorenzo Principi e l'imprenditrice Orietta Maria Varnelli. Sono figure che possono aiutarci in questa ulteriore fase molto critica. Sono persone di grande indipendenza, di assoluta indipendenza, non riconducibili ad appartenenze politiche, ma soprattutto hanno grande passione e capacità di lavoro di gruppo, di programmazione rispetto al progetto Sferisterio. Altra priorità è la nuova forma societaria dell'Associazione Sferisterio. Credo che sarà l'ordine del giorno del primo CDA il percorso di una roadmap che riguardi la scelta del nuovo veicolo strutturale dell'ente per poter andare avanti rispetto all'attuale associazione che non so se potrà rimanere alla luce del fatto che a maggio l'istituzione provincia come ente istituzionale, ente territoriale di primo livello cessa e diventa di secondo livello. Quindi ci sarà da chiedersi che cosa avverrà nei rapporti con la provincia in relazione all'attuale forma associativa. L'appello più forte dopo lo sfogo del direttore Michele a fine stagione sono le risorse. Lo Sferisterio, dopo aver razionalizzato all'estremo, deve affrontare ulteriori tagli di quasi 300.000 euro. Oggi i margini per poter migliorare la performance rispetto alla spesa è quasi annullata. Quindi occorrono nuove entrate. Io credo che qui occorra chiamare il territorio, gli imprenditori, le persone che possono neutralizzare questo gap che oggi abbiamo. Il sogno che ho indicato in conferenza stampa è che si possano avere dati di biglietteria importanti già prima della stagione e quindi magari avere un sold out prima che la stagione inizi e quindi a quel punto di fatto neutralizzare. Questo lo possono fare tutti.